Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo e primo vlog e forse secondo perché non so se contate anche la presentazione del canale però vabbè, benvenuti in questo nuovo vlog insomma e volevo parlare di varie cose allora innanzitutto parliamo del canale aspettate che lo apro apro su youtube aspettate un attimo allora aspettate ah io singh nasodo ok ecco qua allora innanzitutto volevo dirvi che vediamo le serie a call of duty ovviamente lo faremo così quando non c'è proprio niente da fare ora riprenderò la registrazione non vi preoccupate ora vi spiego meglio poi cat mario è finito però non sappiamo se fare i livelli bonus anche poi salenti del resident evil allora oggi registro qualche punto di resident evil 2 o 3 così poi in modo che le pubblicherò e avrò tempo la stessa cosa con silenti invece sto bronzando eh volevo aprire allora facciamo tipo degli indie horror che apriamo così volevo fare tipo ehm questi indie horror che voglio fare sono allora amnesia e poi e poi penserò altri intanto ho scaricato amnesia quando lo facciamo e lo farò insieme a galaxy perchè tutti quelli horror le faccio insieme a galaxy e poi invece aspettate mi seguite bene sì sì ok mi seguite e poi volevo anche aprire ehm una nuova serie horror dopo che siccome cat mario è finito allora tutto apriamo tre serie horror che poi resident evil 1x sia sta cosa horror quindi sono due alla fine silent e un pochino oro però apriamo quella proprio bastardo quella proprio horror che ti pesa più anzi insomma vabbè che è The Walking Dead che l'ho scaricato per il computer in modo che poi si registra meglio anche senza che con la telecamera andiamo a registrare la tv se non è un casino e farò sempre insieme a galaxy e poi volevo sempre nella serie indie insomma indie horror quindi sono amnesia e poi slender the arrival slender the arrival le pubblicheremo tutti gli episodi cioè il primo giorno in un giorno il primo poi subito domani il giorno dopo l'altro così concludiamo subito la serie perchè tanto registro appena viene galaxy a casa mia registramo tutta la serie almeno se ci riusciamo e vabbè ragazzi che vi altro vi devo dire che volevo aprire io due serie di altre due serie quindi sia un po' un casino però le aprirò sicuramente le comincerò a fare sicuramente dopo che abbiamo finito slender the arrival e amnesia quindi sono eeeh però ho dei giorni fissi allora giochi da bimbi minchia che farò solo io inizierò con poke park 2 poi mi consigliate voi i giochi cioè dopo che voi mi consigliate i giochi poi dopo che ho finito poke park 2 e lì c'erò le serie che mi consigliate voi e poi volevo anche aprire questa serie che ancora non è dato nome se i giochi strafighi i giochi figanji eeeh eeeh però questa la faccio io con galaxy invece perchè i giochi da bimbi minchia li faccio da soli eeeh invece i giochi figanji è straordinario non ancora ne abbiamo dato il nome li farò insieme a galaxy e cominciamo con assassin's creed il 2 anche se l'abbiamo già fatto non importa anche poke park l'ho finito tutto ma tanto di poke park non mi ricordo niente perchè l'ho fatto tipo appena uscito Assassin's Creed 2 l'ho fatto l'anno scorso quindi eeeh che altro devo dire? sto pensando eeeh vabbè allora ho detto ho detto ah ok aspetta aspetta un'ultima cosa poke park cioè giochi da bimbi minchia in generale lo faccio il mercoledì e giochi strafighi straordinarie lo facciamo il venerdì quindi vabbè qua in questo vlog è tutto ci vediamo al prossimo video mettete un mi piace al video se vi è piaciuto e spiutate un attimo iscrivetevi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao